Un viaggio sensoriale, in un mondo di pura tranquillità e connessione con se stessi. È l'atmosfera avvolgente di terra-acqua, il nuovo massaggio benessere total body di priorità bellezza, il centro estetico specializzato di Palestrina e San Cesario. Profumi inebrianti avvolgono ogni angolo della stanza e invitano a lasciarsi andare completamente alla serenità dell'esperienza. I dodici manipoli di terra-cotta sono una componente essenziale di questo nuovo rituale di benessere. Un rituale olistico che coinvolge tutti i sensi, portando il corpo e la mente in uno stato di equilibrio e armonia. Le mani esperte degli operatori di priorità bellezza sono come guide silenziose, che con movimenti leggeri e accoglienti risvegliano dolcemente i sensi e sciolgono ogni attenzione accumulata nel corpo. Prenota una seduta al 351 717 3502.